Per usare un'analogia suggeritami da un biologo, in effetti è come se in questa fase di riparazione della mucosa andassimo a preparare la casetta per i batteri buoni quando poi andremo a ripopolare l'intestino. Senza questa fase non ci sarà una corretta assimilazione e l'ingrediente numero uno è la glutamina, questo amminoacido di estrema importanza per la salute generale dell'organismo, ha diversi altri effetti, tipo il fatto di essere uno dei pochi altri cibi del cervello oltre al glucosio, di essere un tipo di sostanza che aiuta a livellare i livelli glicemici all'interno dell'organismo, cosa non legata direttamente all'intestino, ma ecco invece è una componente principale per la ricostruzione degli enterociti ed ecco il motivo per cui viene adoperata in grandi quantità possibilmente per aiutare il corpo a costruire la casetta per preparare poi l'habitat ideale ai probiotici che andremo ad inserire. Ok? Ok? Ok?